E un'Italia ha soli due colori, quella decisa oggi dalla cabina di regia ministeriale. Rosso e arancione sono gli unici colori sulla cartina della penisola in quanto fino al 30 aprile, per decreto del Presidente del Consiglio, non potranno esserci zone gialle. Da dopo Pasqua però via libera le lezioni in presenza in classe per gli studenti fino alla prima media. L'Abruzzo è ancora in zona arancione, salvo quei comuni soggetti all'ordinanza regionale che impone maggiori restrizioni. Oggi nella nostra regione sono 392 nuovi casi di Covid, 6.227 i test tra antigenici e molecolari, per un tasso di positività complessivo del 6,3%. Il più piccolo tra i contagiati ha 10 mesi, il più anziano 94 anni. Anche oggi la provincia dell'Aquila è quella più colpita dal virus. Qui si registrano 132 nuovi casi. A seguire il Chietino con 109 casi, il Teramano con 77 casi e il Pescarese con 66 casi. Otto dei contagiati provengono invece da fuori regione. I dichiarati guariti delle ultime ore sono 424. Attualmente in Abruzzo sono 10.450 e positivi accertati, 37 in meno rispetto a ieri. Di questi, i 615 pazienti, 6 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in area medica. Con 7 nuovi ingressi torna a salire il numero degli ospedalizzati nelle terapie intensive. Sono 85 le persone in rianimazione, 6 in più rispetto a ieri.